Sono Luca Magna, sono un medico veterinario e sono un resident del secondo anno del Collegio Europeo di Patologia Clinica. Ho iniziato il percorso di training di patologia clinica per avere una formazione specialistica perché questa venga certificata ed infine riconosciuta a livello europeo. Un patologo clinico specializzato si occupa di validare metodiche di laboratorio, di interpretare i risultati e in alcuni casi si occupa anche di eseguire in prima persona alcuni test come ad esempio l'esame citologico che è un esame attualmente molto richiesto. Ho deciso di intraprendere questo percorso perché mi sono reso conto di quanto fosse importante essere in grado di selezionare l'iter diagnostico adeguato per uno specifico paziente perché è importante saper interpretare le alterazioni clinico-patologiche ed è anche importante che i risultati derivino da dei test eseguiti in maniera ineccepibile perché questi siano attendibili. Dopo qualche anno di lavoro in laboratorio San Marco ho deciso di iniziare qui il percorso di residency per tre motivi fondamentali. Il primo è la varietà di test che offre il laboratorio e l'apertura all'introduzione di nuove metodiche e quindi questo fornisce una cultura di patologia clinica ampia e di incostante aggiornamento. Un altro motivo è sicuramente l'elevato case load, quindi l'esposizione ai casi clinici più particolari che in alcuni contesti invece rimarrebbero solamente a livello teorico magari nel capitolo di un libro. L'ultimo motivo è la stretta connessione con l'attività clinica, infatti il laboratorio San Marco è collegato alla clinica San Marco, una struttura di riferimento per cui tutti i casi clinici che vediamo in laboratorio possiamo integrare le alterazioni viste alla visita clinica con i reperti di imaging e le alterazioni clinico-patologiche.